Ciao ragazze, eccoci a un nuovo video come avete detto al titolo che è qui giù e io continuo a dire come avete detto al titolo qui su questo è un make up tutorial di un trucco abbastanza autunnale che io trovo autunnale, ovvero sui toni del marrone del prugna, labbra rosse abbastanza intense, anche se non scurissime come si portano quest'anno perché non ho rossetti così scuri spero che vi piaccia anche a voi niente, questo è il risultato finale spero che il look vi piace e vi mando un bacio e vediamo cosa ho combinato allora, io ho già fatto la mia base con il correttore dell'occhiaio, il solito instant and age in perfezioni, quello della max fat e a costa della cipria ho utilizzato questo fondotinta compatto della Deborah la colorazione numero 2 passiamo agli occhi metto un primer ho preso il mascara e metto un primer questo è dell'elf quindi un primer occhi adesso prendo questo color prugna questo è uno dei tre ombretti che mi arrivo da un set che ordinai da elf e lo picchietto su tutta la parte della mobile con questo penelino qua adesso con questo penelino ha sfumato lo sfumo un po' nella piega dell'occhio adesso con un altro pennellino prendo questo qui sono a corti di pennellini devo fare assolutamente un acquisto maxi di pennelli prendo questo marroncino qui color cioccolato di Kiko e lo metto nell'angolo esterno dell'occhio a B quindi così e poi che va verso la piega dell'occhio prendo un po' di terra questa qui nella lebra è la numero 3 e la porta e la piega dell'occhio un color terra bruciata più o meno questo qui applico un altro po' di quel marrone però con un pennellino uso qui piatto sempre nella parte esterna dell'occhio e lo picchietto questa volta perché voglio rendere il look un pochino più intenso un pochino più scuro lo porto un pochino nella piega dell'occhio e sfumo in questo modo adesso rimetto un altro po' di questo prugna qui sulla parte della nobile al centro sempre il picchiettondolo nell'angolo interno pennellino come questo metto invece questo sempre sulla linea dei violetti prugna però tendente più a rosa un rosa antico un rosa antico più scuro per essere più precisi metto il picchietto un pochino all'interno adesso con il pennellino angolato vado a prendere quel marrone cioccolato di prima e lo porto un pochino qui nella rima esterna inferiore in modo che non sia uno stacco troppo netto tra due sopra e la rima sotto e la rima sotto ho messo quel rosa antico scuro prendo un color cipria semplice e lo porto sotto l'arco sopra il ciliare la rima quindi la rima la rima ho messo per il cipria leggermente ho messo a coprire un pochino i buchetti più che ridisegnare con la solita matita di stella dark brown 03 della Wicon e adesso matita negata della Wicon nell'arima interna infine dell'occhio mascara superen maxi volume della Wicon ora mi faccio mettere l'ulti baby doll di essence che è ormai arrivato al fondo lo metto come vibra con il pennellino questi qui per le labbra faccio un mix di due versetti ovvero il 392 di Kiko questo rosso scuro scurissimo però abbastanza scuro di una vecchia edizione penso, non so se è della linea permanente e invece questo è il 606 sempre di Kiko di questi qua di quella collezione di quest'anno un rosso però più acceso questo è matto e questo penso sia satin non sono sicurissima metto prima questo qui più sparafresciato ecco lo peggio qui pulisco un pochino l'eccesso sopra un tovagliolino di questo qui e prendo prelevo col pennellino l'altro rosso quindi un strato solo di un semplice tovagliolino poggio la velina sulle labbra e prelevo un po' di cipra col pennellino tampono ecco qui questo è il risultato con il tamponamento della cipra ovvero l'abbiamo reso completamente opaco e dovrebbe durare di più quindi ragazze prendiamoci queste pincette io devo ancora aggiustarmi i capelli ovvero li devo andare a stirare però questo diciamo è il look finale io lo trovo abbastanza tonnale mi piace spero che piaccia anche a voi e un bacio e ci vediamo al prossimo video